Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Nel corso del nostro notiziario di ieri vi abbiamo proposto un'intervista al sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, al dirigente del settore finanziario Massimiliano Panico, circa numerosi evasori che per anni non avevano pagato le tasse comunali come avrebbero dovuto. L'operazione che si è conclusa qualche giorno fa è interessato soltanto a Avezzano, capoluogo. Adesso lo stesso lavoro verrà iniziato, portato avanti anche per le frazioni e sicuramente qualche altro soggetto debitore verrà scovato anche in questa seconda fase. Nel servizio che segue in anteprima anche una novità che riguarda il nuovo comune realizzato nella zona della Pulcina, bloccato da diversi anni da regolarità di vario tipo. Abbiamo poi chiuso l'argomento ascoltando anche il vice sindaco Lino Cipolloni con il quale il discorso è scivolato sul nuovo ospedale che prima poi verrà realizzato. Nel servizio andato in onda nel notiziario di ieri abbiamo ascoltato dalla viva voce del sindaco De Angelis e da quella del dirigente Panico di come siano state condotte le indagini nel capoluogo. Ma l'iniziativa che ha come scopo quello di individuare altri evasori è tutt'altro che conclusa e tra qualche giorno ad essere coinvolti saranno anche i residenti nelle frazioni. Ipotizzare una crescita della cifra che si andrà a recuperare appare abbastanza verosimile e la conferma viene dallo stesso primo cittadino. Questa operazione è cominciata con Avezzano centro città. Adesso prosegue con le frazioni o sbaglio? Sì frazioni e periferie ma c'è una logica che abbiamo pensato per definire un cronoprogramma di interventi. Il centro è la parte più importante della città per quanto riguarda il movimento e lo sviluppo di una parte dell'economia quindi il cuore pulsante di una città ma questo vale per Avezzano e vale per ogni città d'Italia. Successivamente siamo stati veloci perché abbiamo fatto un intervento in appena 12 mesi. Voi vedrete che adesso il 7 settembre inaugureremo la parte centrale poi piazza Torlonia poi piazza del mercato sarà appaltata. Insomma abbiamo fatto una ricalificazione importante e abbiamo ancora 4 anni di tempo che sono lunghissimi per poter rifinire il nostro intervento su periferie e frazioni. Siamo partiti con il centro e con piazza Torlonia perché poi tra qualche mese partirà anche l'operazione di ristrutturazione dell'ex Arza quindi col master plan e dovevamo far trovare una città che in qualche maniera e degli spazi si integrassero naturalmente con quello che viene realizzato anche con la regione. Abbiamo programmato da tempo questo percorso. Nella pubblica amministrazione di solito quando si fa una programmazione pensata si recupera moltissimo tempo perché poi invece le varianti in corso per questioni burocratiche, amministrative e le varie pastoie ti fanno disperdere energie e ti fanno perdere e andare avanti negli anni. Altra cosa importante, la dico qui perché uno scoop proprio un'ora fa abbiamo, per quanto riguarda il contratto di quartiere Lirim, abbiamo deciso di procedere con il recesso contrattuale. Quindi era l'ultimo atto che ci rimaneva da fare dopo averle tentate in tutti i modi di poter risolvere questo annoso problema e abbiamo prima cercato di coinvolgere la ditta in un concordato tecnico conciliativo in tribunale che non è andata a buon fine, adesso poi c'è un arbitrato in corso, ma nel frattempo l'amministrazione si è determinata a recedere dal contratto. Questo ci permetterà di riprendere in mano il fabbricato e di, io mi auguro... Parliamo del comune nuovo. Il comune nuovo, sì, riavviare i lavori. Abbiamo già dei soldi riservati per iniziare subito l'intervento, circa 920 mila euro per le opere di urbanizzazione primarie e stiamo vendendo la farmacia e quei soldi sono finalizzati comunque ad intervenire sul contratto di quartiere. L'avevo detto all'inizio nel programma di mandato che volevo risolvere anche quell'annoso problema. tanti soldi dei cittadini avezzanesi al momento inutilizzati perché sono stati spesi quasi 6 milioni di euro e mia intenzione è completare quell'opera e quindi mettere a buon frutto il tanto già speso. E sono sicuro che per primavera prossima noi lì potremmo riaprire il cantiere e riprendere quel lavoro. È una promessa? Sì, è una promessa come tutte quelle che ho fatto fino adesso ma che sono state mantenute. Con il sindaco De Angelis abbiamo avviato il discorso relativo al comune nuovo, alle novità che ci sono. Lo concludiamo con il vice sindaco Lino Cipolloni. Allora, finalmente una campana che si è colata o quasi. Cioè il comune torna in possesso del comune, dello stabile e finalmente si può avviare un discorso. Un discorso importante perché dovrebbe essere accentrato tutto lì. Sì, lo spirito naturalmente quando si è costruito quel nuovo municipio era quello di tutti gli uffici di far sì che fosse l'unico luogo, l'unica sede, da far sì che i cittadini non andassero più in giro per le varie sedi distaccate che esistono attualmente. Il primo passaggio. Il secondo passaggio che ci ha spinto a fare questa iniziativa così forte, però non ne potevamo fare a meno, è quello che volevamo ridare alla città, quell'edificio così importante che insiste su un quartiere altrettanto importante che oggi non è in una fase di degrado, però la visione di quell'immobile, di quella struttura, di quella piazza, di quel parcheggio sotterraneo fa sì che quel quartiere rinasca dal punto di vista funzionale e anche di un discorso operativo e anche un discorso sociale, tra l'altro fa sì che si fa salvaguardare veramente una realtà come quella della Pulcina, un quartiere importante dove insistono tantissimi abitanti atteso da tantissimi anni. Le vicende giudiziarie le conosciamo, sono note a tutti. Questa iniziativa ha preso dal Comune, ha voluto far sì che le risorse che già abbiamo a disposizione di impegnarle già da subito per far sì di ripartire all'inizio dei lavori, per consegnare a quei cittadini quel posto che possa essere utilizzato anche per altri scopi, per quanto riguarda la piazza, quando riguarda i parcheggi e quant'altro. Questo è lo spirito. E poi, quello che si diceva prima, un grande risparmio da parte dell'amministrazione comunale per quanto riguarda le spese che si sostengono attualmente per le varie strutture recentrate significa anche far sì, ripeto, che i cittadini, quando hanno bisogno la pubblica amministrazione si rivolga in un unico punto, in un unico luogo e poter fare tutto ciò che hanno bisogno senza dover pellegrinare da un posto all'altro. Nelle condizioni in cui ereditate questo stabile, quanto tempo ci vuole per renderlo utile, abitabile, fruibile e che spesa bisogna affrontare, secondo te? Ma la spesa, si è sempre pensato a una spesa di circa dei 3,5-4 milioni e mezzo di euro per ultimare i lavori di tutto l'immobile. Teniamo presente un immobile di circa 9.000 metri quadrati che ad oggi, per il fabbisogno dell'amministrazione comunale per mettere dentro gli uffici e tutte le strutture, necessitano poco più della metà. pertanto vuol dire che le risorse che già abbiamo a disposizione, circa 1.900.000 euro già oggi, impegnati già nel bilancio, mettendo altre risorse per il prossimo bilancio per il 2019, contiamo nel giro di un anno di consegnare questi immobili alla città. Senti, ho saputo un attimo fa che per te è l'ultimo giorno di lavoro, il 31 di agosto. Un traguardo importante, ecco, che cosa significa per una persona come te che ha lavorato in strutture pubbliche lasciare quel tipo di lavoro e dedicarsi, io penso, completamente alla politica. Innanzitutto auguri. Grazie, grazie. 43 anni di servizio sono tanti. Io sono profondamente legato a questo lavoro che ho esercitato per tanti anni, ormai per 43 anni possiamo dirlo con la massima tranquillità, visto che ci siamo arrivati, in un luogo che è quello della sanità, pertanto parliamo dell'ospedale, che a me ha dato tanto, ha dato molto. Io sono orgoglioso di aver lavorato con tante persone, con tanti colleghi, con tanti medici, professionisti di alto livello, di alto profilo. Pertanto io dico grazie, grazie a tutte le persone che ho avuto modo di incontrare in tutti questi anni. Con loro ho condiviso gioia e dolori, momenti di sconforto, momenti belli quando si è aperti all'ospedale, momenti belli quando si sono aperti nuovi reparti, momenti belli quando abbiamo acquisito nuove professionalità per dare sicurezza ai cittadini di tutta la Marzia, non solo di Avezzano e non solo, perché l'ospedale di Avezzano oggi è appunto di riferimento di altre realtà, tipo il Frosinate, il Reatino. Pertanto io sono, ripeto, sono orgoglioso e penso di aver dato il meglio. A me poi, io all'ospedale voglio bene, mi lamento molto quando sento parlare da parte di qualche collega che si lamenta, molto ovviamente le cose non sempre vanno come debbano andare, però io penso che noi dobbiamo essere contenti di questa cosa e l'impegno che dobbiamo invece tutti quanti promuovere in un'unica direzione è quello del nuovo ospedale perché... Ecco, il nuovo ospedale, tu hai preso questo argomento, ne approfitto, approfitto della tua presenza, si farà davvero e quando? Sì, il nuovo ospedale in realtà ormai è una cosa concreta, i fondi ci sono, le regioni estanziali, il Ministero pure, il Cipe ha messo a disposizione le somme, sono state a avviare le procedure. Sono procedure lunghe, perché? Perché queste sono le leggi che sono abbastanza articolate, si sta costruendo un ospedale, un impegno di spesa che si agisce intorno ai 90 milioni di euro, la partecipazione pubblico-rivata, insomma è una cosa abbastanza complessa. Io penso che il nuovo ospedale, ho visto, ha avuto modo di conoscere il cronoprogramma, pertanto ha avuto modo di vedere i tempi tecnici di realizzazione. Per il 2026, se siamo fortunati, avremo un nuovo ospedale di Avezzano. Nel 2020 e 21 potremo pensare a mettere la prima pietra per aprire i lavori. Oggi con le tecnologie di oggi, naturalmente parliamo di un ospedale che non è solo l'involucro, la struttura, ma bensì di un ospedale con le tecnologie interne abbastanza avanzate. Pertanto pensiamo un po' in discorso in prospettiva, pensiamo bene in futuro, ci dobbiamo preoccupare invece di un'altra cosa molto molto importante, che è che non dobbiamo avere una bella casa con bei mobili e poi non c'è chi lo utilizza. Pertanto noi dobbiamo fare attenzione che i professionisti, i grandi professionisti, che ci sono stati fino ad oggi, si devono esserci, che manteniamo in piedi quelle strutture funzionanti che sono in fiore all'occhiello nel nostro ospedale, nel nostro territorio, di quest'area, di questa azienda sanitaria. Pertanto l'attenzione massima deve essere concentrata a questo, perché adesso c'è un'operazione di svecchiamento, tra virgolette, molti medici, bravi professionisti sono andati in pensione o si accingono ad andare in pensione. Per fortuna abbiamo giovani, bravi, capaci. Dobbiamo avere la capacità dell'azienda sanitaria, in particolare al moto, adesso nel futuro a scegliere ottimi dirigenti per far sì che questa cosa, l'ospedale Ravezzano, vada avanti ancora per tantissimi anni, garantendo una sanità di qualità a tutti i cittadini. Questo è l'auspicio che posso fare, perché ormai da libero cittadino tra 24 ore prossime posso tranquillamente dire che mi auguro l'auspicio più forte e io per quanto mi riguarderà, per l'aspetto della politica, pertanto come politico locale, sarà il mio massimo impegno a far sì che tutto questo si realizzi e che ci sia la massima attenzione a questo aspetto, che è fondamentale. Grazie, in questi casi si dice buona vita, buona vita a Lino Cipollone. Grazie, grazie di cuore, grazie. Siterà sabato 1 settembre alle ore 11 presso la sala conferenze del municipio di Avezzano, la conferenza stampa con cui il gruppo consigliare di Forza Italia che annuncerà l'adesione ufficiale del consigliere comunale di Nando Boccia a Forza Italia. Saranno presenti il capogruppo Giancarlo Cipollone, il sindaco Gabriele Di Angelis, coordinatore cittadino di Forza Italia Aureliano Giffi, il consigliere provinciale Gianluca Alfonsi, il consigliere regionale Emilio Iampieri e i parlamentari Lazzario Pagano, presidente regionali di Forza Italia, Antonio Martino, responsabile organizzativo. e la Lega Abruzzo invece a causa di concomitanti e imprevisti impegni ha annullato la festa della Lega in programma per il 1 settembre a Ortona. Mentre nella sala Filomena degli Castelli della sede di Pescara della regione si terrà sempre sabato 1 settembre una conferenza stampa per presentare le novità relative alla misura del masterplan, interventi infrastrutturali e funzionali e la valorizzazione turistica delle stazioni invernali Passo Lanciano-Meglietta per complessivi 20 milioni 200 mila euro. Parteciperanno fra di altri l'assessore regionale Silvio Paolucci e il segretario particolare del presidente Enzo Del Vecchio. Ed è riscosso un grande successo l'ultimo appuntamento musicale una notte d'estate delle vacanze. Lucchesi è andato in scena nella chiesa di San Giovanni Battista. Protagonisti dell'evento, il trio Ilenia Lucci, soprano direttore artistico, Stefano Mammarella al flauto, Angelo Fina al pianoforte, accompagnati da Domenica Stornelli, voce narrante. La nostra è un'amministrazione, dichiarato il sindaco Rivera De Rosa, che crede fortemente nel valore della cultura, della condivisione, e Luco è un paese bello, vivo, abitato da una comunità che partecipa, attiva, capace di stare insieme e apprezzare le tante bellezze del nostro territorio. Tra questi vi sono senza dubbio tanti artisti di talento, lucchesi e marsicani, per i quali la Rassegna Estiva ha voluto anche essere una vetrina, e che ringrazio perché, con la loro arte e la loro bravura, danno lustro al nostro paese, come ringrazio le associazioni che hanno partecipato con spirito di collaborazione agli eventi, i cittadini che hanno apprezzato e condiviso le tante manifestazioni, e tutto il personale del Comune, in particolare l'ufficio tecnico. E ci spostiamo nella città castellana, sabato 1 settembre, al Centro Storico di Cielano ospiterà la manifestazione Sport in Festa 2018, patrocinata dal Comune ed alla quale hanno confermato la partecipazione circa 45 associazioni sportive. La carmessa sportiva inizierà alle ore 10 e 30. Nel corso di Sport in Festa ci si potrà cimentare in ogni forma di attività, dall'arrampicata alla perete del castello, ai tornei di calcio e calcetto, tanto per citarne alcune. La giornata dedicata allo sport si concluderà in serata con la festa organizzata dai giovani di Celeniadi 2018, con musica live e balli di gruppo nel Parco delle Rimembranze. Il programma della manifestazione prevede inoltre che a partire dalle 15 e 30 abbia luogo la cerimonia di consegna degli attestati di merito per i risultati raggiunti che l'amministrazione comunale di Cielano riconosce agli atleti ed alle associazioni che hanno partecipato all'evento sportivo. Nel corso della cerimonia verrà consegnata una targa commemorativa alla memoria di Ermanno Piccone, indimenticato presidente del Cielano Calcio ed uomo di sport, di Angelo Ranelletta, praticante arti marziali e presidente dell'associazione Mountain Bike, e di Maurizio Cornelio, escursionista ed appassionato di montagna. Da antiche miniere a risorse per nuove attività turistiche, culturali e museali è l'obiettivo del progetto di valorizzazione dei siti minerari dismessi e degli annessi mobili di proprietà pubblica che si trovano all'interno del Parco Nazionale della Megliella, in un'area che comprende 11 comuni della provincia di Pescara, All'AUM è stato firmato il protocollo d'intesa interistituzionale che da ufficialmente via l'iniziativa. L'accordo è stato sottoscritto tra Regione, Agenzia del Demanio, Soprintendenza archeologica Belle Arti, Paesaggio dell'Abruzzo, Provincia di Pescara, Parco Nazionale della Megliella e Anci Abruzzo. Il documento che per la Regione è stato firmato dall'assessore al turismo Giorgio D'Ignazio e dal direttore del Dipartimento Turismo Francesco Di Filippo impegna tutte le istituzioni coinvolte a raccogliere e valorizzare l'eredità di un'imponente attività estrattiva e affini turistico-ricettivi, non solo attraverso percorsi di archeologia industriale, ma anche con la promozione del turismo lento e con progetti culturali. Al centro del programma c'è un patrimonio pubblico che comprende centinaia di gallerie sotterranee, reperti industriali ed edifici di superficie, testimonianza di oltre 100 anni di attività dei minatori e delle loro famiglie impegnati nell'estrazione di bitume e asfalto per la produzione di manufatti e materiali da costruzione. A breve sarà istituito un tavolo tecnico operativo permanente in cui saranno messi a confronto progetti, obiettivi e strumenti da mettere in campo per la valorizzazione dei seti. Ascoltiamo ora le dichiarazioni di Giorgio D'Ignazio e Francesco Di Filippo. Assessore D'Ignazio, questo progetto, questo protocollo di intesa seglato questa mattina sulla valorizzazione del distretto minerario della Maiella rientra in uno dei progetti di valorizzazione della regione che punta sul turismo lento. E' chiaro, rientra sotto questo punto di vista proprio nel creare un turismo diverso perché noi abbiamo, torno a rivedere, tanti turismi. La regione Bruzza è intervenuta con 3 milioni e mezzo di euro speriamo che anche il ministero, abbiamo un sottosegretario e beni culturali, ci dia una mano sotto questo punto di vista. Non servono ulteriori risorse. Fra le altre cose io torno sempre a ripetere la politica si impegna, deve trovare risorse ma poi noi in Abruzzo abbiamo una serie di vincoli di lacci, lacciole, imposti da enti, da Europa che poi ci impediscono di fatto di arrivare a compimento anche magari con grandissimi sforzi del risultato che poi porta turismo nella nostra regione. Francesco Di Filippo è il direttore del Dipartimento Turismo della Regione. Che cos'è questo progetto? Che cosa sono le aree dismesse del distretto minerario della Maiella e soprattutto oggi inizia un percorso che vedrà diversi partner istituzionali sedersi ad un tavolo tecnico? Sì, sicuramente la firma di un protocollo interistituzionale che riguarda l'Agenzia del Demanio, la Regione, il MIBAC, la provincia di Pescara, il Parco della Maiella e che vede coinvolte anche 11 comuni di questa realtà di questo patrimonio minerario dismesso che può trovare nuova vita e valorizzazione sia per un discorso di turismo industriale, di archeologia industriale ma anche di turismo lento ma anche culturale e di percorso museale. È uno dei tanti giacimenti, si può dire in questo modo in maniera molto appropriata, da valorizzare per un rilancio turistico, per anche riscoprire un patrimonio storico del DNA di questi 11 comuni. Molte persone, tra le quali molti bambini, hanno avuto l'opportunità di scoprire la bellezza della biodiversità diurna e notturna della riserva naturale orientata Montevelino nel centro visite di Madiano De Marsi. Gli esperti ecologi e interpreti ambientali dei carabinieri forestali hanno coinvolto i partecipanti fino a tarda notte in attività e esperienze di educazione ambientale facendo di vivere la biodiversità sulla pelle attraverso l'attivazione di tutti e cinque i sensi. Dopo l'esplorazione dei principali ecosistemi della riserva nelle ore diurne sono stati pian piano scoperti i misteriosi strumenti di comunicazione degli animali notturni attraverso esperienze dirette che hanno messo in contatto i partecipanti. Intanto, il primo settembre, a partire dalle ore 18 fino alle ore 23, il centro visite della riserva naturale orientata a Statale di Efeido in Tramonti e Cevitella al Fedena accoglierà altri visitatori con nuove entusiasmanti attività di educazione ambientale. Verrà inaugurato un centro visite completamente rinnovato successivamente si esplorerà la flora e la vegetazione caratteristica della riserva percorrendo brevi sentieri naturalistici. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Il sindaco di Sulmona ha ritirato le dimissioni. In una lettera Anna Maria Casini ha motivato la decisione perché è convinta di non poter lasciare la città all'ennesimo e lungo commissariamento prefettizio. Nella lettera il sindaco sottolinea che in questi giorni intensi ha parlato con la gente comune e con coloro che hanno sostenuto la sua candidatura con gli elettori e gli operatori economici ascoltando le loro opinioni. Il nostro territorio scrive la Casini nella lettera minacciato da ridimensionamento o chiusure di servizi essenziali come sanità, giustizia, istruzione e progetti impattanti. Primo tra tutti quello SNAOM che potrebbe compromettere definitivamente una prospettiva di rinascita della città spiega sempre il sindaco Casini. Proprio per questo perciò che la città dovrà affrontare nel breve periodo ma anche rispetto alle potenzialità che possono essere colte da un'amministrazione in carica conclude il sindaco di Sormona. Oggi sono convinta di non poter lasciare la città. Nella sede della provincia di Teramo si è tenuto il primo tavolo tecnico istituzionale riguardante i comuni coinvolti nel sisma del 2016-2017, la presenza dei sindaci interessati. Il presidente vicario Giovanni Lolli dopo aver ringraziato il vice commissario straordinario Luciano D'Alfonso per l'attività svolta e gli ottimi risultati ottenuti ha voluto delineare i criteri secondo i quali si muoverà l'azione della regione nei prossimi mesi in modo tale da evitare i vuoti di poter accelerare la ricostruzione in quei settori che richiedono particolare attenzione. Lolli accompagnato dal direttore dell'USD Marcello Dalberto e della struttura della protezione civile ha dato conto di tutta l'attività svolta finora soprattutto per quanto riguarda le opere pubbliche che sono state straordinariamente finanziate dal governo Gentilone per oltre 256 milioni e ha avvisato la necessità di accelerare i suoi interventi per danni lievi. Anche i sindaci intervenuti hanno espresso gratitudine per l'opera svolta dal vice commissario D'Alfonso e hanno sollecitato l'amministrazione regionale a velocizzare la parte burocratica. Infine è stata discussa l'ipotesi di far gestire alle amministrazioni comunali l'istruttoria per gli interventi classificati con le schede B e la questione del doppio cratere ovvero degli otto comuni che sono soggetti alla normativa per la ricostruzione sia del 2009 che del 2016-2017. Ed è tutto pronto per il raduno sezionale Abruzzi degli Alpini sono attesi a penne fino a domenica 2 settembre giorno della sfilata oltre 2.000 penne nere provenienti anche da fuori in regione in rappresentanza di 200 sezioni. La città vestita a un profondo legame con gli alpini ha esordito il sindaco Mario Semproni. La sezione penese è una delle più antiche della regione. Quest'anno festeggia gli 80 anni della sua fondazione nata nel 1938 grazie all'alpino Nereo Scatozza. Abbiamo voluto festeggiare quanto questo avvenimento ospitando il raduno regionale per omaggiare e abbracciare gli alpini d'Abruzzo. Gli iscritti della sezione sono quasi 140 ha proseguito Semproni. Gli alpini di penne sono diventati un supporto straordinario per l'attività comunale. Sono presenti in ogni manifestazione pubblica e quando bisogna aiutare gli altri sono sempre disponibili. Gli alpini di penne sono infatti stati i primi a intervenire nella tragedia di Regupiano nel gennaio 2017 coordinando le attività di supporto all'interno del centro operativo misto allestito nel palazzetto dello sport di Contrada Campetto. Il comune di penne ha reso onore poi anche al nonno reggimento alpini dell'Aquila che nel 1998 ricevete la cittadinanza onoraria dal comune di penne per l'attività svolta durante gli eventi calamitosi del 2016-2017. E questa era l'ultima notizia quindi il giornale termina qui. Prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Vezzano dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Riusciamo alle previsioni del tempo grazie anche oggi per averci seguito e arrivederci. Salve e ben ritrovati! Dall'immagine grafica possiamo notare un vortice di bassa pressione in discesa dalle isole britanniche sarà proprio quest'ultimo a determinare condizioni di spiccata instabilità caratterizzate da rovesci o temporali in queste ultime ore stanno interessando il nord Italia successivamente interesseranno anche il centro nord e poi la perturbazione o fronte freddo tenderà a spostarsi verso le regioni centrali e meridionali tra sabato e domenica di questa settimana e in effetti questo fine settimana anche sulla nostra regione Abruzzo si verificheranno rovesci di pioggia anche temporaleschi piuttosto intensi dunque la cartina successiva ci fa vedere quanto il tempo possa risultare instabile per tutto l'arco della giornata di sabato attraverso un'alternanza tra sole, nubi, fuoriere di improvvisi acquazzoni inizialmente sul settore centro-settentrionale dell'Appennino in estensione a tutto il nostro territorio sempre in un contesto variabile in alternanza tra sole e nubi e anche sulla fascia pedemontana e costiera i mari diverranno mossi o molto mossi i venti ruoteranno da sud-ovest quindi da libeccio a nord-nord-ovest quest'ultimo fresco maestrale correnti piuttosto fresche che come possiamo notare dalla cartina successiva faranno abbassare le temperature sia nei valori massimi dove si attesteranno comunque tra i 22-23 gradi sulle nostre zone interne tra i 27-25 gradi sulla fascia costiera e pedemontana che nei valori minimi in effetti possiamo notare un significativo calo termico che si concretizzerà ancora di più nella giornata di domenica nella notte di sabato infatti farà piuttosto fresco se non nella notte tra sabato e domenica e nelle prime ore del giorno farà addirittura moderatamente freddo anche verso l'inizio della settimana dunque un vero e proprio assaggio d'autunno con l'avanguardia di questo autunno meteorologico quest'anno il 23 settembre invece entrerà l'autunno astronomico vediamo l'immagine successiva è l'indice raggi ultravioletti che tra poco non illustreremo più perché si mostrerà con l'avvento dell'equinozio d'autunno il 23 settembre vi ripeto in sempre più decisa diminuzione io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento vi ringrazio vi ringrazio non cheated Grazie a tutti.